Torna al Politeama la rivista delle pagliette del Buzzi con un'ispirazione divina dopo tre anni di assenza. Dal 26 al 29 marzo è di scena a un certo momento l'inferno. Tante le novità a partire dal ritorno del regista Alessio Gori. Dante si trovava al mare tranquillamente felice con la moglie e con la suocera e praticamente la moglie e la suocera lo scacciano del tutto perché Dante non è nient'altro che un poetucolo fallito in questa rappresentazione che cerca l'ispirazione per scrivere il suo poema. A un certo punto trova, a un certo momento anzi, trova un personaggio che è Lucio, che è Lucifero, va bene, che lo guida in un viaggio strano e lo conduce diciamo così a Prato. Oltre 80 fra ballerini e attori si alterneranno sul palco accompagnati da musiche di ispirazione rock. Già dall'anno scorso sono stati tirati su dei buoni ragazzi, ce ne sono due in presidenza quest'anno e gli altri iniziandi che stanno provando a entrare e che faranno parte della rivista comunque tutti si impegnano al massimo, sono convinti e siamo tutti molto contenti di fare la rivista. Una rivista che però con tutta la sua spenseratezza vuole anche ricordare chi non c'è più. Purtroppo dall'ultima rivista è scomparso anche Carlo Mercatanti che è stato uno dei primi a fare la rivista, per tanti anni ha lavorato alle scene. Poi chiaramente i due betti, Rodolfo e Roberta, sono quelli che ci mancheranno di più perché erano un po' lo zio e la zia. I biglietti sono in vendita al Teatro Politeama. Il ricavato della serata sarà devoluto in beneficenza.